Si affrontano, ai fini del risultato si annullano ed ora si apprezzano ancora di più, avendo una chiara idea l'una dell'altra. Gioiese e Bovalinese 0-0, malgrado il terribile Adam ci sia ancora, e a Cinni corra più che mai. I padroni di casa sferrano il primo tiro dopo 4 minuti, materializzano un'altra idea dopo 6 con Savino e Canè, poi la Bovalinese si sente chiamata in causa e bottiglieri prima, a Cinni poi, regolano i conti con la legge del campo. Al ventitresimo Savino è fermato per posizione irregolare, ma al trentesimo è lui che inspiegabilmente si impappina con la palla tra i piedi. La Bovalinese gonfia il petto al trentatresimo, su calcio piazzato, e dal trentacinquesimo al quarantesimo esce per entrambe. A Cinni si propone, ma per tutta la gara è mal servito, oltre ad essere pedinato, Canè sacca a seguire, per un risultato che non si sblocca, neanche al quarantunesimo. Al quarantacinquesimo a Cinni evita la traversa, solo grazie alla manata di Panuccio. Nella ripresa la Gioiese impenna e la Bovalinese trasforma, al nono Cosenza fa tutto da solo e invita Guerrisi, neoimmesso da Nocera, a controbattere. Si rivede la coppia giovinazzo-Canè, sull'onda dei quali i padroni di casa tentano un inutile tutto per tutto. Presidente Rombolà, quando andrà questa intervista in studio ci sarà anche Graziano Nocera, quindi la possibilità sua di sfogarsi senza averlo di fronte? No, ma onestamente non ho niente da sfogarmi contro il mister, ma più che altro con le prime punte, perché non si riesce, si fa tanto gioco, durante gli allenamenti si riesce ad essere così spavalde, così poi nelle partite ufficiali non si riesce a mettere il pallone in rete, tutto qua. Mobili, Arzilli, Maspreconi? Ma sicuramente, avete visto tutta la partita, la squadra ospita è venuta con l'intento di portare un pareggio e complimenti a loro, ci sono riusciti. Due punti persi o uno guadagnato per questa bovalinese che è definita una bovalinese che vola? No, direi partita sostanzialmente equilibrata, il pareggio ci sta, sapevamo di affrontare una squadra che aveva necessità di fare i tre punti, loro gli ultimi 15 minuti ci hanno pressato, hanno tirato tanti calcio d'angolo, in qualche occasione è stato bravo il nostro portiere, però abbiamo avuto anche loro le nostre occasioni, quindi direi forse un punto che ci può stare e andiamo avanti. La gioiese si rifà agli occhi delle nostre telecamere, mentre la bovalinese mette un altro punto nel salvadanaio della testa della classifica del campionato d'eccellenza. E domenica è derby. Ma guarda, noi sinceramente in casa, in quest'anno come l'anno scorso, andiamo abbastanza bene, ci aspettiamo sicuramente un roccella voglioso, un roccella che oggi mi sembra che ha vinto, ha cambiato allenatore, quindi magari sicuramente hanno degli stimoli in più, però i ragazzi credo che giocando stanno trovando la consapevolezza di essere una squadra importante, e sicuramente domenica vedremo una bella partita e mi auguro che come si conviene tra due società e due squadre che si rispettano, alla fine vinca il migliore e soprattutto vinca lo sport.